Non penso che questi tizi fossero infatti. Non importa, proseguiamo. Bene, ecco il ponte. La nostra via d'uscita era qui. Ehi, Ely, rallenta. Aspettami. Come? Sono qui. Perché non fai andare prima me e tieni la voce bassa? Ok. 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 Sto fischiando. Perfetto. Un altro modo per farmi impazzire. Fantastico. Ok. 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 Cos'è stato? Non lo so. Ellie, sta giù. Nasconditi, Ellie. Avevi tutto il greggio davanti e non ne hai colpito uno. Fra poco colpirò te. Wow. Ehi, sei proprio agitato. Se vuoi delle lezioni, te le do io. Non c'è problema. Sì, come no. Dove cazzo sono quelli? Dovrebbero essere qui. Sono allo svincolo dell'autostrada. Non mi sorprenderei se avessero bloccato altri turisti. È una miniera. Fortunati bastardi. Vedi se c'è qualcosa da recuperare mentre aspettiamo. Qui non c'è niente. Proseguiamo. Oh, grazie. 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 Grazie a tutti.